Buongiorno, ben trovati lunedì 24 dicembre 2018, vigilia di Natale, appuntamento consueto come ogni mattina con la nostra rassegna stampa, mattino 6 della vigilia di Natale che si apre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, iniziamo con il centro, con l'edizione di Pescara per andare a vedere quali sono gli argomenti che ritroveremo all'interno del giornale, diversi gli articoli e i titoli degni di interesse uno in particolare riguarda la politica in alto, vedete perché ieri è arrivato l'annuncio ufficiale dopo un lunghissimo tira in molla, Marsilio arriva, il sì ufficiale, vedete ringrazio tutti, il centrodestra dunque ha scelto il senatore Marsilio come candidato presidente dunque questa è la notizia politica di maggiore rilevanza, poi vedremo all'interno altri commenti su questa notizia vediamo anche altri titoli invece, Oniwell e Ball quando il Natale è un dramma senza il lavoro le due aziende alle prese con davvero un momento molto complicato soprattutto per i lavoratori e poi passa al Senato la manovra mobilità sindacati e PD Salvini dice è da 7 vediamo poi più in basso la notizia che riguarda il ritrovamento dopo quasi tre giorni del 66enne Enrico Natale a San Giovanni Teatino, era ancora disteso tra i rovi, era scivolato tre giorni fa la gioia di soccorritori e le lacrime della figlia, cento uomini impegnati nelle ricerche e quella di ieri è stata anche la giornata dell'ultimo saluto al commerciante pescarese Enrico Di Muzio che era stato stroncato da un malore due giorni fa, grande folla per l'addio a Di Muzio vedete quanta gente ieri ha partecipato alle sequie presso la chiesa del mare vediamo anche la cronaca Pescara in pieno centro, un vicino fa arrestare due ladri d'appartamento e poi la lotta contro la malattia, il papà di Noemi, Natale di speranza per la mia bimba vediamo anche in basso altri due titoli, il primo riguarda Ezio Greggio e Romina a Vicoli gli auguri di Natale ai familiari prima di partire per le Maldive, il conduttore di striscia dunque in Abruzzo e poi il calcio, Fiorillo rilancia il Pescara, dice pronto a lottare per la Serie A Fiorillo che dovrebbe tornare in campo proprio giovedì 27 quando i Biancazzurri riceveranno lo stadio Adriatico alle 19 il Venezia siamo all'edizione del centro di Chieti Lanciano Vasto, Mele contro il Filobus condannato, pena di 8 mesi e maximulta a carico del 25enne Teatino che ha lanciato il frutto sul parabrezza distrutto per puro divertimento e poi Lanciano, la tradizione più attesa, la squilla porta la solidarietà all'ospedale Renzetti e vedete la foto di questa iniziativa la cronaca ci porta invece ad Atessa, lite in piazza, finita nel sangue, giovane in cella e poi vediamo in basso lo sport perché tra ieri e l'altro ieri si sono giocate le gare di Serie D ma anche ci sono state partite in altri campionati per esempio nel campionato di basket maschile di Serie B la Teate Basket è passata a Teramo dopo un supplementare terza vittoria consecutiva per i teatini calcio dilettanti, Vastese e Chieti brindano la vittoria Vastese in Serie D batte di misura l'Olimpio agnonese il Chieti, il Pontevomano per 3 a 1 andiamo a vedere la prima pagina del centro di L'Aquila Avezzano sul Mona, Gran Sasso, Pienone, Lunghefile grande afflusso sulle piste di Campo Imperatore ma attese alla biglietteria apre anche lo Snow Park Pignatelli, amministratore unico del centro turistico rassicura tutti, risolveremo presto i disagi Presepi viventi domani si inizia con Pianola l'Aquila, la mappa degli appuntamenti e poi vediamo anche altre notizie l'Aquila, addio Badia, partigiano ed ex assessore e poi telecamera in centro a Sulmona, vertice con il prefetto vediamo anche le altre notizie il calcio di prima categoria il Pizzoli perde l'Aquila allunga in classifica il Rosso Blu sono a più 6 sulle seconde in classifica in attesa del recupero Rugby, l'Unione in ripresa e il Paganica può sognare, buone notizie per le formazioni abruzzesi di Rugby siamo alla prima pagina del centro edizione di Teramo Conte, vigilia di Natale Teramana il Presidente del Consiglio invitato dal Vescovo Leuzzi dovrebbe arrivare oggi per una visita privata andrà nelle case famiglia di Cerchiare e di Campi alla piccola opera Caritas di Giulianova dunque una vigilia di Natale probabilmente abruzzese per il Presidente del Consiglio prezzi stabili al mercato ittico di Giulianova pesce senza rincari per la tradizionale cena del 24 con tanti piatti di pesce sulle tavole degli abruzzesi vediamo anche la cronaca siamo a Silvi allarme furti arrestate due ladri latitanti e poi invece ad Atri ambulante vince 100.000 euro al Super Enalotto e per lui sarà un Natale sicuramente indimenticabile il basket di Serie A2 Roseto perde la gara infinita a Verona ci sono voluti tre supplementari per decidere il match vinto dagli scaligeri e poi il calcio di Serie C perché il Teramo rivitalizzato dalla vittoria con la Triestina pensa alla sfida con la Ternana Ternana che ha confermato nonostante la sconfitta di Ravenna il tecnico Gigi De Canio Siamo al Messaggero Abruzzo la prima pagina Tribunali salvi fino al 2021 approvato l'emendamento slitta la chiusura delle sedi di Sulmona Vezzano Lanciano e basto i 5 Stelle lavoreremo per cancellare una volta per tutte la minaccia dello smantellamento e poi anche sul Messaggero ritroviamo ovviamente la notizia della candidatura ufficiale di Marsiglio per quanto riguarda le regionali nel centrodestra e poi vediamo ancora Teramo Asl mobilità passiva a quota 59 milioni e poi l'incubo Enrico Natali era precipitato in una scarpata trovato vivo dopo tre giorni vediamo anche la cronaca a Tessa litigio al bar il ragazzo rischia la vita il giovane colpito con un bicchiere rotto l'aggressore arrestato per tentato omicidio e poi a Pescara la Caritas offre il cenone ai poveri proprio nel giorno della vigilia di Natale in alto vediamo alcuni richiami di sport parliamo del Pescara il Pescara brinda con il bomber Bellini giocatore sudamericano che è stato tesserato dalla società Biancazzurra eccellenze chieti vince d'astuzia e consolida il primato poi la serie C Teramo De Grazie Zecca Maurizzi ci vuole sfrontati dicono i due hanno detto i due giocatori della formazione bianco-rossa noi siamo all'edicola nazionale per vedere quali sono le tematiche sui quotidiani oggi in edicola partiamo dal Corriere della Sera proteste in arrivo per la manovra Salvini merita 7 i tagli le nuove tasse ora il voto alla Camera ma come scrive il Corriere ci potrebbero essere delle proteste andiamo in Indonesia tsunami dopo l'eruzione oltre 220 morti e poi vedete il Krakatoea e l'onda gigante questo vulcano che ha provocato questo tsunami e purtroppo tante vittime vediamo anche Repubblica anche il quotidiano romano apre con lo tsunami in Indonesia centinaia morti torna l'incubo del 2004 e poi sondaggio cambiando argomento l'Italia cambia rotta ora cresce la fiducia nello Stato vediamo anche il fatto quotidiano reddito ecco il decreto entro metà gennaio il disegno di legge di Maio i primi assegni a fine aprile vediamo anche il prossimo quotidiano la prossima pagina che è quella di Libero stupidità scrive Libero al potere per aiutare i poveri impoveriscono tutti per finanziare i fannulloni cari e grillini la manovra rastrella quattrini ovunque questo il titolo principale di Libero Libero che poi parla anche di di Battista che torna in Italia Battisti no questo titolo che gioca sul cognome simile dell'esponente politico dei Cinque Stelle e di Battisti che è ricercato in Brasile vediamo anche il messaggero nazionale manovra cresce il peso delle tasse aumento di 7 miliardi per imprese e famiglie e poi vedete in Indonesia incubo tsunami devasta l'Indonesia e poi statali in pensione a ottobre e nei processi garanzie intoccabili parla il ministro della giustizia buongiorno vediamo anche la verità così Bruxelles ha peggiorato la manovra e poi più a centro pagina ha i terremotati 15 miliardi nessuno li spende vediamo anche il sole 24 ore manovra 2019 passata ai raggi X proprio dal quotidiano economico 5 percorsi verso il forfè e poi il titolo più in basso che riguarda il nostro paese l'Italia perde potere d'acquisto unico big che nei 20 anni dell'euro ha visto calare il reddito disponibile con una percentuale del meno 3,8% il mattino di Napoli manovra più tasse per 7 miliardi e poi conto salato per famiglie e imprese quota 100 pagata con il taglio degli aumenti agli assegni in corso e poi la stampa vedete questo titolo unico titolo con questi due bambini in copertina Natale 2018 intelligenza artificiale e populismo ci hanno sorpreso e cambiato c'è l'editoriale del direttore Maurizio Molinari il tempo nonni e bimbi il Natale è vostro titolo con tanto di foto e poi vedete più in basso pensioni tagliate come fece la Fornero sopra i 1500 euro gli assegni non recuperano l'inflazione come nel 2011 il secolo.it viva il Natale dire buon Natale offende l'Islam bisogna fare auguri generici in una società multiculturale accade nella civile Germania polemiche anche dalla estrema sinistra scrive il secolo che era l'ultimo quotidiano che abbiamo preso in esame possiamo tornare dunque ai quotidiani da Abruzzesi ripartire dal centro da pagina 2 dove si parla ovviamente della decisione ufficializzata nella serata di ieri della candidatura per il centrodestra di Marsiglio vedete il titolo a tutta pagina Marsiglio la candidatura diventa ufficiale l'annuncio di Meloni Salvini e Berlusconi in videoconferenza il senatore Romano li ringrazio e allargo la coalizione ma ci potrebbe essere qualche spina una sicuramente lo vedete da questo titolo più in basso di Stefano vado da solo con i miei l'ex deputato che rischia di diventare la spina nel fianco del centrodestra dunque Di Stefano va avanti e il centrodestra in questo momento potrebbe dunque presentare il 10 febbraio due candidati Marsiglio il candidato ufficiale e Di Stefano che proseguirà prosegue la sua corsa con alcune civiche l'Abruzzo il lavoro l'emergenza quando il Natale diventa un dramma parlano gli operai della Bolle e della Oniwell padri di famiglia che a 50 anni debbono ricominciare da capo e Noemi ci dà forza e speranza la lettera Babbo Natale di Andrea Sciarretta il papà della bimba diventata un simbolo della lotta alle malattie rare siamo a Pescara la fine di un incubo con il ritrovamento nel pomeriggio di ieri del pensionato che era scomparso tre giorni fa Enrico Natali si era perduto in campagna avvistato dall'elicottero e salvato dai motociclisti lo vedete nella foto la gioia di amici e familiari grazie a tutti per i soccorsi tante le persone mobilitate in questi tre giorni per ritrovare il pensionato che è stato ritrovato vivo e anche in buone condizioni di salute i funerali del commerciante ieri a Pescara Enrico Di Muzio che era scomparso due giorni fa per un malore il suo grande cuore è con noi nella chiesa del mare tanta gente alle segui del salumiere di Muzio stroncato da un infarto nel suo negozio a 47 anni vedete quanta gente tantissima gente solo in pochi hanno avuto la possibilità di entrare all'interno della chiesa del mare per partecipare ai funerali vedete sulla bara anche la maglia del Pescara di Muzio era un grande tifoso della formazione bianca azzurra andiamo a fondo pagina è morto l'ex assessore Enzio Falini vecchia gloria del calcio originario di Giuliano aveva 83 anni ed era stato anche allenatore e poi la cronaca in via del circuito arrestati ladri di appartamento vicino sente rumori e avvisa il 113 torniamo a parlare delle elezioni abbiamo visto Marsiglio candidato ufficiale per il centrodestra nel centrosinistra nel PD c'è uno scontro tra i candidati per la corsa alla regione l'assessora comunale del comune di Pescara Simona Di Carlo attacca Di Marco e la Chaud per la tragedia di Rigopiano disponibile a correre solo se tolgono dalla lista l'ex presidente della provincia ha detto l'assessore al comune di Pescara Simona Di Carlo vediamo anche la prossima pagina Ezio Romina Vigoli per gli auguri di Natale tappa abruzzese per il noto conduttore della trasmissione striscia la notizia e la modella pescarese in partenza per le Maldive pranzo tipico a Carpineto e foto ricordo con la famiglia vediamo anche un'altra notizia la cronaca popoli negativi controlli antidroga nelle scuole e poi in basso Montesilvano aggredisce un vigilo urbano arrestato un venditore abusivo mentre spostandoci nell'area vestina a Penne Brioni si al contratto a 32 ore Penne i lavoratori bocciano la proposta dell'amministratore delegato Malverdi andiamo a vedere anche la prossima pagina che ci porta a Chieti stop al bando l'incarico da 24 mila euro un errore nelle lettere azzerata la gara d'appalto va a Monte la procedura per trovare un esperto in riduzione dei consumi energetici il comune dimentica insieme di riliva e a buste già aperte è costretto a revocare gli atti lutto in città a Chieti addio a Cerritelli storico primario dell'ospedale Teatino e poi vediamo altre notizie tessere di libera circolazione il rinnovo slitta al prossimo 31 gennaio e poi consiglio comunale seduta su stranieri e pace fiscale più in basso la cronaca scagliamele contro il bus condannato pena di 8 mesi e maximulta per un 25enne distrutto per puro divertimento il vetro di un pullman siamo alla pagina della provincia di Chieti a Tessa aggressione in piazza colpito al collo con un bicchiere rotto finisce nel sangue una lite tra ragazzi dopo una serata in discoteca 22enne in carcere per tentato omicidio il ferito in ospedale vediamo anche più a centro pagina Lanciano la droga del clan nascosta negli accendini Lanciano dopo l'arresto dell'affiliato alla camorra e del genere partono i controlli su telefonini e tablet in basso sfilata di turbanti alla moda per le pazienti oncologiche e le creazioni degli studenti di Lanciano all'ospedale San Pio di Vasto siamo all'Aquila apre lo snow park sul Gran Sasso al via la stagione invernale tanti sciatori e lunghe file campo imperatore grande afflusso sulle piste ma attese alla biglietteria Pignatelli del centro turistico assicura risolveremo tutti i disagi e intanto chiusa la strada provinciale per la Ienca Corriere De Santis dicono decisione assurda e poi siamo all'Aquila comune senza fondi critiche a Crini spariti 10 milioni promessi Deramo il parlamentare della Lega parlamentare aquilano della Lega Salvini il governo rimedi quagliariello di idea grave errore e in basso si è spento vedete la notizia a 89 anni il partigiano Badia svelò al centro dovevo essere il decimo dei nove martiri scampati perché troppo giovane queste le dichiarazioni proprio nella sua ultima intervista siamo ancora all'Aquila e provincia presepi viventi ecco i principali appuntamenti domani si terrà come a Betlem nella frazione di Pianora il 26 a Camarda poi al Parco del Castello e Castel del Monte ma in tutto l'Abruzzo ci saranno iniziative e presepi viventi Freedom in onda su Rete 4 l'Abruzzo protagonista nel programma di Giacobbo e poi Messa di Natale con il Cardinale Petroc il Cardinale celebra questa sera a mezzanotte la Messa di Natale presso la Basilica di Collemaggio in basso ci spostiamo ad Avezzano fiera in centro e anche polemiche e poi giornata di festa torna in parte per i ragazzi del 1948 siamo a Teramo il Premier Conte in visita privata in provincia di Teramo vigilia di Natale Teramana per il Presidente del Consiglio oggi atteso su invito del Vescovo nelle case famiglia di Cerchiara e Campli e alla piccola opera Caritas di Giulianova si tratterà però di una visita privata infatti nessun annuncio ufficiale ma intanto si è messa in moto la macchina della sicurezza che è coordinata ovviamente dalla Prefettura di Teramo e il Vescovo Leuzzi riapre l'annunziata e visita le macerie di Faiano vediamo poi più in basso a Giulianova si parla della cenone della vigilia mercato ittico pesce a prezzi contenuti Giulianova niente rincari per la tradizionale cena del 24 i più ricercati gli scampi a 68 euro al chilo siamo ancora ad un'altra pagina di Teramo e di Teramo provincia multe e fototrappole per i rifiuti abbandonati Teramo l'assessore di Buonaventura firma una convenzione con le guardie ambientali per aumentare i controlli la Teramo Ambiente avvierà la raccolta di oli esausti dal mese di gennaio e poi Villa Rasicci restituita ai familiari la salma della donna investita dall'auto e poi il sindaco Gianguido Dalberto saluta tutti i ricoverati dell'ospedale Mazzini il sindaco il primo cittadino porta l'abbraccio di Teramo ai degenti messaggio di auguri alla cittadinanza del sindaco di Teramo da Teramo andiamo ad Atri un ambulante vince 100.000 euro al Super Enalotto mentre a Silvi c'è il cambio al comando della stazione dei Carabinieri lascia il sottatenente Antonio Tricarico subentra il luogotenente Carlo Guarnaccia dunque cambio al vertice della stazione dei Carabinieri della cittadina Teramana siamo arrivati allo sport in questo caso ma prima di parlare di sport dobbiamo ovviamente andare a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero partiamo dalla cronaca di Pescara partiamo dal ritrovamento in vita fortunatamente del pensionato che era scomparso tre giorni fa vigili e volontari salvano Enrico Natali l'uomo non si è mai allontanato dal punto in cui era caduto ha chiesto subito dell'acqua ma in condizioni soddisfacenti è stato trasferito in ospedale per dei controlli ma come detto le sue condizioni sono buone vediamo le altre notizie sempre a Pescara entrano in casa per rubare messi in fuga dalla vicina arrestati dalla polizia di stato e poi ancora cronaca Montesilvano ambulante abusivo aggredisce un vigile e poi festa per tutti la Caritas offre ai poveri il cenone e il pranzo di Natale che si terrà nella mensa diocesana presso la cittadella dell'accoglienza Giovanni Paolo II di Pescara che potrà accogliere tra le 100 e le 150 persone la cittadella dell'accoglienza che si trova in via a lento sempre ovviamente a Pescara da Pescara ci spostiamo all'Aquila il Cardinale Petrocchi stasera la prima messa natalizia da Cardinale alle 24 presiderà il rito nella Basilica di Collemaggio e domani alle 11.30 nella chiesa di Sant'Elia alle 17.30 invece nella chiesa delle Anime Sante dopo 10 anni tornano i Vespri Pontificali a proposito della chiesa delle Anime Sante molti di voi ricorderanno proprio la riapertura qualche giorno fa alla presenza del capo dello Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella siamo a Castelvecchio Calvisio sempre in provincia dell'Aquila nonni e nipoti insieme con la natività del FAI e poi oggi il tradizionale maxi aperitivo in centro all'Aquila per scambiare gli auguri in vista del Natale vediamo altre due notizie nella parte bassa della pagina ricostruzione nessun falso assolta l'ex assessore Gian Giuliani e poi ingegneria vulnerabilità successo della giornata di studi siamo alla pagina di Avezzano Sulmona si parla di tribunali c'è una buona notizia perché è stata concessa la proroga fino al 2021 passato l'eventamento che è come vi dicevo proroga la chiusura delle quattro strutture abruzzese ovvero dei tribunali di Sulmona Avezzano Lanciano e Vasto ieri se ne sono intestato il merito scrive il messaggero i senatori 5 Stelle Gabriella Di Girolamo Primo Di Nicola e Gianluca Castaldi Celano dopo un summit per la depurazione ecco Aciam e Seci restiamo in Marsi Gadavezano politica cittadina di fine anno Ceglie Randella Alfatti difende ci spostiamo in Valle Peligna Sulmona allarme tabagismo riapre il centro antifumo a Sulmona e poi Sanità Lanau Natale senza chirurghi e il caos denunciata una situazione grave negli ospedali di Sulmona e Castel di Sangro e poi tornando nella Marsica ad Avezzano mercato contraffazioni e pochi affari prima di proseguire con la lettura delle altre pagine dell'inserto Abruzzo del Messaggero possiamo fermarci per qualche istante andiamo a vedere insieme anche le previsioni del tempo per questi giorni di festa per il Natale e dunque per le prossime ore poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6 leggeremo le altre pagine del Messaggero e poi apriremo come ogni lunedì un'ampia pagina di sport ed eccoci di nuovo in studio per la seconda parte di Mattino 6 della Vigilia di Natale siamo alle pagine di Chieti del Messaggero partiamo dal capoluogo il centro è poco attrattivo e ancora senza parcheggi per i negozianti è meglio ora del 2017 ma non si respira il vero clima natalizio promesse le luci in stile opere d'arte bocciato il mercatino in corso marrucino da Chieti a Vasto l'angelo vola con la luce di Betlemme via alla festa nella città aragonese Ortona concerti e il pranzo del 1943 per ricordare la liberazione di Ortona e poi andiamo ad Atessa cerca di sedare la lite sgozzato e grave abbiamo visto anche prima dal centro quanto accaduto nelle ultime ore nella città di Atessa e poi Lanciano squilla migliaia in processione fino alla chiesetta di Iconicella andiamo a vedere la pagina di Teramo sempre dalle colonne del messaggero i teramani si curano fuori mancano gli anestesisti il report individua alcune eccellenze che restano nel settore cardiovascolare gli avvisi per assunzioni vanno deserti le marche sono la regione più gettonata andiamo a Giulianova la cronaca due feriti nello schianto carambola sul lungomare di Giulianova e oggi come detto la visita privata del premier Conte che sarà nel Teramano invitato dal vescovo di Teramoatri Monsignor Lorenzo Leuzzi ma sarà una visita come detto in forma privata ancora Giulianova furto all'LD bloccate tre donne arrestate anche due latitanti e poi Ancarano anziano trovato morto nella sua abitazione trovato senza vita un pensionato di 78 anni siamo arrivati alle pagine dello sport allora andiamo per ordine ripartiamo con e apriamo la pagina sportiva con i quotidiani sportivi nazionali iniziamo con la gazzetta dello sport punito parliamo dell'Inter pugno duro della società Nerazzurra Nainggolan fuori con il Napoli e può essere ceduto in ritardo l'allenamento ma pesano altre bravate e il nuovo corso di Marotte il nuovo direttore generale della formazione Nerazzurra che ha punito il giocatore che salterà la gara importantissima per l'Inter con il Napoli e polemiche nell'Inter non va tutto bene anzi nel Milan perché vedete Gattuso un uomo solo al comando dopo la sconfitta interna con la Fiorentina Leonardo e Maldini disertano il centro sportivo di Milanello l'allenatore in bilico il suo futuro sarà deciso a Londra determinanti per Gattuso le prossime due partite Milan che come le altre squadre di Serie A tornerà in campo il 26 per i rossoneri ci sarà la trasferta di Frosinone Bianconeri Stelle di Natale Super Manzuchic Amuleto Juve Cristiano Ronaldo può riposare e dunque la Juventus si gode il primato Toro scatenato invece dall'altra parte di Torino per i troppi errori arbitri perché 10 episodi sospetti in 17 giornate Pecci sì è un numero eccessivo chiudiamo con la parte alta della pagina dove c'è un richiamo al campionato cadetto Nesta Paris il Venezia cade in casa e il Venezia è battuto dal Cosenza sul proprio campo e sarà la prossima formazione lagunare la prossima avversaria del Pescara vi ricordo si giocherà giovedì 27 dicembre dunque fra tre giorni alle 19 allo stadio Adriatico vi anticipo che ci sarà il consueto appuntamento per seguire proprio il Pescara in diretta dallo stadio di Adriatico il consueto appuntamento con diretta stadio siamo al corriere dello sport Ramsey alla Juve nuova operazione in stile Emre Can si libera a giugno dall'Arsenal arriverà a costo zero proposto uno stipendio da 10 milioni l'anno e intanto la Roma chiama Basrae il Milan aspetta Fabregas Barella il Napoli insiste e poi l'Inter ferma Ragia Naingolan fuori rosa multa salatissima salta la sfida di Santo Stefano con Ancelotti e Spalletti è a dir poco irritato tutto sport radiato questo è il titolo che gioca sul nome di Naingolan per il ritardo sospeso il giocatore dell'Inter la Juve ha in mano Ramsey e Tridente Toro finalmente ora si può e poi Gattuso in bilico l'ombra di Wagner la crisi apre nuovi scenari per il Milan è un momento complicato ricordiamo che il Milan è uscito fuori anche dall'Europa League dunque punta tutto sul campionato e pesa in casa rossonera il digiuno del Pipita che non segna da due mesi ovvero Iguain lasciamo le pagine le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali possiamo tornare al centro per vedere la prima pagina dello sport Fiorillo si riprende il Pescara eccola qui Biancazzurri quarti giovedì il portiere rientrerà con il Venezia la Ternana vuole il direttore sportivo del Pescara Luca Leone questa la notizia proprio delle ultimissime ore la Ternana che ha confermato in panchina nonostante il momento negativo e la sconfitta di Ravenna il tecnico Gigi De Canio Ternana che giocherà il 27 di dicembre al Libero Liberati con il Teramo e proprio il Teramo riscopre l'ottimismo in vista della sfida di Terni vediamo le altre pagine di sport che ci fanno partire ovviamente dal campionato di Serie A altro ritardo sospeso Nainggolan il Berga non arriva a puntuale all'allenamento fuori mercoledì sera con il Napoli sarà multato vediamo poi altre notizie il Mazzanti così ho creato l'Italvolleydon il tecnico della nazionale vice campione del mondo a Montesilvano serve dice il coraggio di osare ancora calcio Sesni Juventus equilibrata e tosta il portiere guai a fermarsi possiamo allungare in vetta Manzuchic mi piacciono la squadra il calore dei tifosi Crisi Milan mercato sotto accusa Gattuso si giocherà la panchina contro il Frosinone e la Spal questi due prossimi impegni non complicati almeno sulla carta per i rossoneri che giocheranno prima in terra laziale con il Frosinone e poi in casa con la Spal vediamo la prossima pagina che ci porta a parlare in maniera dettagliata del Pescara Fiorillo pronti a lottare per la Serie A il portiere non ci nascondiamo più nel girone di ritorno ci giocheremo qualcosa di grande e intanto come detto la Ternana offre a Leone la poltrona di direttore sportivo difficile che il presidente del Pescara Sebastiani si privi del suo DS intanto in vista della gara del 27 indisponibili Melegoni e Canutè Campagnaro è tornato in Argentina rientrerà a Pescara il 2 gennaio per prepararsi in vista poi della ripresa del campionato che si fermerà dopo le ultime due gare del 27 in casa con il Venezia e del 30 a Salerno campionato che si fermerà per tre settimane e intanto vediamo cosa è successo nell'ultimo turno di campionato ricordiamo che il Pescara ha riposato nella terz'ultima giornata di andata vediamo quello che è accaduto Salernitana Foggia 1 a 0 Lecce Padova 3 a 2 Venezia Cosenza come dicevamo 0 a 1 Venezia prossimo avversario del Pescara Cittadella Perugia 2 a 2 Spezia Palermo 1 a 1 Benevento Crotone 3 a 0 prosegue il momento che definire negativo e dire poco per la formazione crotonese del tecnico pescarese Massimo Oddo e siamo alla serie C al Teramo un'iniezione di ottimismo tanti segnali positivi dalla squadra dopo la vittoria per 2 a 0 alla Triestina De Grazia dice stiamo crescendo giovedì a Terni ce la possiamo giocare e intanto come detto la Ternana è in crisi conferma De Cagno e prende un direttore sportivo ha chiesto ha chiesto al Pescara il DS Luca Leone vediamo cosa accadrà ma noi andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del tecnico Biancorosso Genore Maurizzi dopo la bella importante e soprattutto meritata vittoria al Bonolis contro la Triestina la cosa che la fa più contento la prestazione di Piccioni la prestazione di Piccioni sì poi? basta poi era normalissimo cioè era normale nel senso che ci poteva stare una partita così importante perché stiamo giocando bene quindi dovevamo solo avere più fortuna degli episodi però non per falsa modestia ma la squadra è molto viva quindi il merito va sono contento soprattutto i ragazzi perché credo che poi per i difusi perché credo che alla fine come ho sempre detto al centro di progetti ci sono calciatori che nessun altro il miglior teramo della sua gestione? sì o no? ma credo non lo so non lo so credo che sia una squadra sì credo che sia stata una buona partita una squadra molto che è che è stata in campo con la consapevolezza di di sempre fare alcune cose di farlo bene rispetto alle altre partite uno sforzo distribuito forse meglio nel corso dei 90 minuti d'accordo non c'è stato il calo nella ripresa che spesso eravamo abituati a vedere beh ci sono tante partite che non c'è il calo nella ripresa perché comunque abbiamo anche quella in casa che con Renate abbiamo già da un buon secondo tempo anche con la Giana hanno fatto anche quando abbiamo perso con la Giana hanno fatto un tiro in porta il secondo tempo a Vicenza siamo stati padroni del campo il secondo tempo col Pordenone abbiamo fatto un po' secondo tempo però sempre un tempo no abbiamo fatto sia prima il secondo tempo poi c'è anche la qualità degli avversari che spesso si dimentica quindi noi non giochiamo da soli ma giochiamo anche contro gli avversari purtroppo per fortuna che ci danno anche emozioni e questo si dimentica spesso quindi l'avversario comunque non stanno lì giochiamo contro buone squadre questo è un girone veramente difficile a proposito di girone difficile come detto ci sarà la ripresa del campionato tra tre giorni la trasferta durissima in casa della Ternana dal centro passiamo al messaggero ripartiamo dal Pescara Pescara che brinda con il bomber Bellini delfino gioca d'anticipo sul mercato e prova a regalare l'attaccante sudamericano a Pilon Cocco potrebbe lasciare i biancazzurri e in scadenza di contratto e non rinnova su Cocco ci sono le attenzioni del Pordenone che è la squadra che sta diciamo facendo molto bene nel campionato di Serie C che dunque potrebbe ulteriormente rinforzarsi proprio acquistando l'attaccante del Pescara e siamo proprio al teramo De Grazia e Zecca Maurizzi ci vuole così entusiasmo abbiamo sentito anche le parole di Maurizzi dopo la vittoria con la Triestina parliamo anche di calcio a 5 Acqua e Sapone hanno record nuova chance in Coppa dei Campioni e siamo al campionato di Serie D perché nell'ultimo weekend tra ieri e l'altro ieri si sono giocate le gare dell'ultima giornata di andata ovviamente un turno in agrodolce per le nostre formazioni è andata bene sicuramente a Lavastese vittoria di rigore con l'Olimpia agnonese ci pensa Leonetti grazie al gol proprio dell'attaccante su tiro dagli 11 metri i biancorossi sono tornati al successo e per Lavastese si è trattato di portare a casa tre punti importanti in chiave salvezza allora possiamo andare a vedere il prossimo servizio proprio sulla gara giocata ieri allo stadio Aragona Lavastese che ha battuto l'Olimpia agnonese per 1 a 0 il servizio di Jacopo Forcella il massimo risultato col minimo sforzo così Lavastese si regala un Natale felice chiudendo con tre punti e un leggerone d'andata in cui il cambio tecnico ha migliorato una situazione che vista la partenza ad Endicap poteva farsi complicata l'1 a 0 all'Agnonese riassunto nel regore di Leonetti in apertura e poco altro prima di dirsi arrivederci al 2019 un intoppo di formazione per Fabio Montani De Meio classe 2000 è squalificato e allora il tecnico deve rinunciare a Fiore per far debuttare Ferrara Coetaneo di De Meio è di fatto un obbligo per rispettare la regola degli under Foglia Manzillo dall'altra parte si affida al tridente con il sorgente Ancora e Antonelli ma deve rivedere subito i suoi piani perché dopo neppure due minuti Cassese entra in ritardo su Leonetti in area di rigore perde Usagno di faenza e rigore e il bomber aragonesi spiezza Kuzmanovic ma soprattutto manda avanti i suoi con la rete numero 11 nel campionato la reazione Granata alla tredicesimo quando Ancora libera il sinistro Violento da posizione defilata ma manca la porta seppur non di molto Agnonese più manovriera la vastese si limita a controllare ma non trova quella fluidità di manovra che le permetterebbe qualche ripartenza in più la prima frazione restituisce una vastese che trovato il vantaggio Lampo troppo spesso si abbassa a protezione del risultato a 10 dall'intervallo allora è Antonelli a provare uno slalom in piena regola e ci vuole la chiusura tempestiva di Del Duca per evitare guai peggiori ad inizio ripresa Foglia Mazzillo richiama Salifu per inserire Yawo di fatto alzando ancora di più le bari centrogranata Montani allora inserisce Russo uno degli ultimi arrivati per Stivaletta ma di emozioni continuano ad essercene poche in fondo l'Agnonese non è che faccia soffrire le penne dell'inferno e di conseguenza gli Aragonesi non si dannano certo l'anima per cercare il raddoppio in più qualche giocatore in casa bianco-rossa non sembra essere al top della forma il che rende tutto decisamente più complicato la formazione di Montani però corre un rischio spaventoso alla mezz'ora della ripresa tiro-cross di Yawo Patani è scavalcato ma la traversa respingere la traiettoria l'azione prosegue il fallo di Peic sul cappellupo scatena la reazione del numero 4 Granata che prende il giallo ma va faccia a faccia con l'arbitro rimediando il rosso diretto che vuol dire toccia anticipata per il centrocampista Granata le porte degli spogliatoi le apre un ospite speciale per l'occasione a godersi si fa per dire la gara dell'Aragona in superiorità numerica ci prova Leonetti a chiudere i conti ma il suo piazzato è debole centrale al minuto 87 è sempre lui a farsi vedere con una girata in bello stile ma a lato l'ultimo assalto molisano di Formuso colpo di testa e solo un fine impreciso con l'Aragona che trattiene il fiato nel timore della beffa vittoria di misura dunque per la vastese appuntamento ora al 6 gennaio 2019 Montani fa 20 punti in 13 partite e se in casa vastese il timore della bassa classifica è solo un ricordo è anche merito suo e dunque sorride la vastese non altrettanto l'Olimpio Agnonese vediamo quello che si dice anche in casa delle altre abruzzesi di serie D che erano scese in campo nel giorno precedente Avezzano nell'ultimo mese è cambiato tutto i biancoverdi corrono e lottano il DS Traini al lavoro per rimpiazzare il partente Bomber Deramo che andrà allo Spezia e dunque in serie B 3 a 3 nell'ultima gara di campionato con il Pineto e proprio il tecnico pinetese Amaolo dice ora il Pineto a equilibrio Tomassini ai 100 gol in carriera ringrazio i compagni vediamo anche come il centro commenta la vittoria della Vastese abbiamo appena visto il servizio la Vastese avanza un rigore di Leonetti piega l'Agnonese non riesce invece a tornare all'appuntamento con la vittoria il Notaresco che scivola fuori dalla zona playoff per la prima volta in questa stagione dopo la divisione della posta ieri in casa con il Sant'Arcangelo padrone di casa in vantaggio nel primo tempo con Moretti risponde Fuchi a inizio ripresa la vittoria in casa del Notaresco manca da sette partite allora vediamo il servizio su questa partita giocata ieri al Savini servizio curato per noi Dania Cantagalli un Notaresco a due facce incappa nel quinto pareggio delle ultime sette gare rimandando ancora una volta l'appuntamento con la vittoria al Vincenzo Savini finisce 1-1 contro il Sant'Arcangelo le due squadre sono accomunate dall'ultimo avversario contro il quale hanno trovato la vittoria il Pineto il 14 novembre per il Notaresco e il 14 ottobre per il Sant'Arcangelo Cudini lascia in panchina Minella chiamando Moretti a fare la punta centrale con Laringe e Liguori ai suoi fianchi rinunciando poi a Dalmazzi per infortunio c'è colonna di conseguenza a far coppia in difesa con l'ex Salvatore la gara impiega un quarto d'ora a decollare ma al termine della prima frazione il Notaresco avrà più di un ramarico i rosso-blu riescono infatti a bucare la difesa ospite ma sfornano e divorano diverse occasioni si comincia al quarto d'ora quando Liguori ispira per Moretti la cui girata di testa finisce però fuori di poco due minuti più tardi Moretti fa tutto bene sulla destra poi col mancino mette in mezzo con bontà che di un soffio non arriva la deviazione verso la porta e ancora Notaresco al 28esimo quando Candellori penetra in aria la palla arriva ancora a Moretti che però non trova lo specchio mentre il Sant'Arcangelo dell'ex Serie A Gallop a Latita il Notaresco finalmente passa Corvino sbaglia in desimpegno di cuore ringrazia e non fa ancora di più poco dopo Moretti che sigla il quarto gol stagionale due minuti più tardi i padroni di casa rischiano dagli sviluppi di un angolo Salvatore è infatti costretto ad immolarsi per evitare il pari di Gaiola prima di tornare negli spagliatoi la ringia appoggia per bontà con conclusione che però termina alta stesso destino poco dopo per un tentativo di Moretti al 43esimo le occasioni non concretizzate nel corso del primo tempo tornano come fantasmi ad inizio di presa a difesa Notaresco troppo ferma infatti Fuchi fa tutto da solo si infila e trova il pareggio per il Sant'Arcangelo la squadra di Codini prova a reagire tenendo il possesso ma non trovando concretezza negli ultimi metri al 28esimo Rucci vede Liguori defiliati in aria che ci prova di prima intenzione con tentativo rispinto la palla arriva poi a Candellori ma la difesa ospite mura anche questa iniziativa alla mezz'ora la squadra di Codini si gioca anche la carta vinella non riuscendo però mai a servire bene l'attaccante argentino rispetto alla prima frazione la ripresa offre ben pochi spunti con un Notaresco che mostra l'altra faccia della medaglia rispetto ai primi 45 minuti in cui i rosso-blu avevano creato e sprecato la squadra di Codini gira quindi a quota 30 punti al termine del giro all'andata un bottino soddisfacente per una formazione che per molte gare ha anche espresso un ottimo calcio torniamo al messaggero vediamo cosa scrive il quotidiano abruzzese in riferimento alle altre abruzzesi di Serie D il Real Giuliano ora corre ripari con Rinaldi ed un portiere poi Francavilla che gioia i tre punti in trasferta che mancavano davvero da tanto anzi mai prima dell'ultima gara i giallorossi avevano vinto lontano dal Valle Anzuca l'Avezzano dopo il 3 a 3 pronto per il Cesena si ripartirà proprio dalla gara del Manuzzi e per il Pineto sosta salutare per recuperare gli infortunati torniamo al centro andiamo a vedere la pagina che riguarda le altre squadre di Serie D Stallone il Giulianova può solo migliorare playoff più vicini Rachini tecnico del Francavilla 6 dice Rachini sulla sua squadra 6 sulla strada giusta e siamo ancora al calcio ma al campionato regionale di eccellenza perché ieri si sono disputate le gare valide per la diciannovesima giornata vediamo quello che è accaduto Chieti che ha battuto il Pontevomano 3 a 1 torna a gioire all'Angiolini i neroverdi non brillano ma battono 3 a 1 il Pontevomano e brillano in casa dopo un mese e mezzo vediamo gli altri risultati Acqua e Sapone Nero Stellati Pratola 1 a 0 Alba Adriatica Penne 2 a 0 Delfino Flacco Porto Renato Curi Angolana 0 a 0 e poi San Buceto prima la paura poi gol della vittoria 3 a 1 con il Miglianico e poi Nereto Capistrello 3 a 0 Paterno Amiternina 5 a 1 Spoltore Martinsicuro punteggio tennistico 7 a 0 Torrese Cupello 2 a 0 Vediamo quello che è successo nel campionato regionale di promozione partiamo dal girone B Lanciano si stacca ora è a più 6 sul Bagigalupo Vasto grazie al successo per 4 a 2 sul Raiano e poi Scafa Bagigalupo Vasto 4 a 0 Scafa Cala il poker contro la vice capolista e poi Val di Sangro Sant'Anna 0 a 0 Ovidiana Sulmona Ortona 2 a 2 San Salvo Casalbordino 2 a 4 Fossa Cesi a Piazzano 0 a 1 Faterangelini Passo Cordone 2 a 1 Casolana River Chieti 65 0 a 2 Bucchianico Villa 2015 0 a 4 Vediamo quello che è accaduto nel girone A con il Borgo Santa Maria spietato e che batte il Castelnuovo primo K.O. proprio per il Castelnuovo e dunque Borgo Santa Maria Castelnuovo Vomano 2 a 1 Tossicia Angizia Luco 0 a 2 Morrodoro Mutignano 3 a 1 Pucetta Sportland Celano 1 a 2 e poi Rosetana Nuova Sant'Egidiese 0 a 1 San Gregorio Fontanelle 1 a 1 Real Atria Piano della Lente 0 a 3 Santomero Palmenze Montorio 88 0 a 2 Lasciamo dunque il calcio di eccellenza e di promozione lasciamo definitivamente la pagina del calcio parliamo di rugby unione rugby l'aquila in ripresa questo è il titolo di pagina 50 Paganica sogna in grande in serie B l'Avezzano regina del mercato deve metabolizzare tanti cambiamenti in C1 la migliore delle abruzzesi e la polisportiva Abruzzo e dunque buone notizie per le squadre abruzzesi di rugby vediamo altre notizie atletica leggera corsa campestre lanci il 2019 parte con due eventi il 13 gennaio calcio a 5 donne sfuma il quinto successo di fila del città di Montesilvano volley due sedute di allenamento per la selezione regionale vediamo anche l'ampia pagina del basket come ogni lunedì partiamo dalla serie 2 maschile Girone Est con Roseto che perde a testa alta la sfida infinita di Verona dopo tre tempi supplementari la formazione veronese si impone per 105 a 97 il coach Rosetano d'Arcangeli giocato alla pari per 55 minuti abbiamo gettato più volte il cuore oltre ogni ostacolo pensiamo già alla sfida di Ferrara e siamo al campionato di serie B maschile di basket con Campli che si arrende a Porto Sant'Elpidio ma già pensa al derby di domenica marchigiani che vincono per 79 a 56 e poi Teramo Chieti 73 a 77 battaglia sul parquet Teramano il Chieti vince dopo un tempo supplementare furioso Ruscitti il presidente Teramano questi arbitri dice sono degli asini vediamo anche l'amatori che aveva giocato il giorno prima il derby di Giulianova vincendo l'ottava gara consecutiva per la squadra del Coach Raiola secondo posto in classifica Giulianova mi è piaciuto ha detto il tecnico pescarese anche il carattere ora dobbiamo mantenere il secondo posto la serie C Gold Val di Ceppo Lanciano 85 ad 80 Magic Chieti Falconara 83 a 65 il volley serie D Antoniana beffata dal 2k5 in promozione Silvi centra la sesta vittoria in segare in segare stacca il scusate questo non è ancora il basket stacca il basket insieme il volley ora sì Antoniana e Panthers Roseto cedono ad Ancona e Perugia siamo al basket di serie C Silver vediamo i risultati nuovo Pineto vasto 73 a 96 Olimpia Mosciano Chieti 101 a 66 nuovo basket Aquilano Teramo a spicchi 53 a 77 Airino Termoli Porto San Giorgio 93 a 73 Torre Spesse Nova Campli 92 a 44 vediamo anche altre due notizie partiamo dal pugilato Russo vittoria al veleno sul ring di Lanciano l'ex iridato batte nettamente l'irlandese McCarthy e dichiara i giornalisti che mi vedono sul viale del tramonto sono dei puffi dovrebbero ritirarsi loro dichiarazioni davvero al veleno del pugile italiano e poi ora sì il volley perché la Sieco Ortona è quarta in classifica e ora attende il Club Italia mercoledì in campo ad Ortona la possibilità per salire ancora in classifica e la Cogget in serie B2 donne ingaggia Coac Nibbio questa è la notizia che riguarda la formazione pescarese noi siamo giunti così al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 Mattino 6 della vigilia di Natale io ringrazio ovviamente tutti voi per averci seguito ringrazio Claudio Di Giacomo e Loris Bennato in regia vi ricordo che oggi e domani non lavoreranno i giornalisti della carta stampata dunque per due giorni non ci sarà Mattino 6 Mattino 6 che tornerà puntuale tra tre giorni ovvero giovedì 27 sempre alle ore 8 dalla nostra redazione ovviamente a tutti voi l'augurio di un sereno Natale buona giornata Grazie a tutti